Attenzione, gli argomenti trattati in questo doppiaggio del video Five Nights at Freddy's di Dino Gaming potrebbero risultare violenti o inquietanti per alcuni, quindi onde evitare magagne se ne sconsiglia la visione ad un pubblico facilmente impressionabile. Lo sapevate? Five Nights at Freddy's è ispirato ad un vecchio gioco dal nome Chipper and Son Lumber Company. Sebbene entrambi i giochi siano stati creati dalla stessa persona, Scott Cowden, hanno dei toni molto differenti. Chipper and Son Lumber Company infatti è un gioco in cui il giocatore deve piantare e coltivare alberi in un'ambientazione bambinesca ed innocente. Graficamente il gioco fu apprezzato ben poco. In un'intervista all'indie game Meg, Scott dichiarò, alcune persone mi dissero che il protagonista assomigliasse ad un inquietante animatronic. La cosa mi distrusse emotivamente ed ero pronto ad abbandonare l'industria dei videogiochi. Fino a che una notte non mi scattò una scintilla e mi venne da pensare, scommetto che riuscirei a realizzare qualcosa di molto più spaventoso di quello. Scott accantonò quindi lo sviluppo di giochi cristiani e sfruttò le critiche per reindirizzare i suoi sforzi verso un gioco che comprendesse degli inquietanti animatronic. Scott ha poi dichiarato di non essersi pentito della creazione di nessuno dei suoi poco apprezzati giochi cristiani, visto che sente come se Dio gliele avesse commissionati. Secondo Scott, l'animatronic più spaventoso è Bonnie. Egli stesso ha avuto svariati incubi riguardanti Bonnie durante il periodo di sviluppo ed è involontariamente stato vittima di alcuni jumpscare mentre programmava la sua AI. Parlando di Bonnie, nel trailer di Five Nights at Freddy's lo si vede correre per un corridoio e lo si vede anche mentre rimuove la sua maschera, sebbene nessuna di queste cose sia stata effettivamente inserita nel gioco finale. La possibilità di correre infatti è stata data a Foxy e nessun animatronic rimuove la propria maschera nel gioco. L'interfaccia per le telecamere di sorveglianza di Five Nights at Freddy's è stata realizzata appositamente per limitare la mobilità e la visibilità del giocatore. Questo tipo di limitazioni sono una grande fonte di panico e sono istintivamente terrificanti. Alcuni vecchi design mostrano che le telecamere si sarebbero illuminati di verde sugli schermi una volta attivate, avrebbero anche mostrato il campo visivo interessato e sarebbero state piazzate in modo differente. Le prime versioni del gioco avevano anche un contatore per le vite che permetteva di impostare il numero di volte in cui il giocatore poteva sbagliare prima del game over, ma nel gioco finale il giocatore ha una sola vita. Stranamente si può trovare la stessa meccanica inutilizzata nei file di Five Nights at Freddy's 2. Oltre all'inutilizzata meccanica delle vite, Five Nights at Freddy's 2 ha un altro elemento inutilizzato, una barra della tossicità. Non è dato sapere se questa barra sarebbe stata parte di una nuova meccanica del gioco principale o se sarebbe stata utilizzata in uno dei vari minigiochi. Tra i file c'è anche un'immagine inutilizzata che sembra raffigurare parte di un teschio. Si possono infatti notare i denti superiori e le cavità oculari e nasali. La meccanica dell'elettricità e del generatore ausiliario fu ideata in modo da avere una motivazione per lasciare le porte aperte. Ciò trasmette la sensazione di essere indifesi, insieme alla mancanza di mobilità e visibilità. L'idea di avere un personaggio immobile inoltre deriva da uno dei primi giochi di Scott, Sit and Survive. Comunque, sebbene svariate feature rimosse siano nascoste nel codice, molto materiale inutilizzato è sotto l'asso di tutti. L'urlo di due secondi che viene riprodotto durante i jumpscare è parte di una traccia più lunga. Se viene riprodotto per intero, si potrà sentire chiaramente che quello è l'urlo di un bambino. Ed anche la risata di Freddy è quella di un bambino, sebbene sia rallentata di circa il 40%. E si pensa che una versione non modificata di questa risata sarebbe stata utilizzata per Golden Freddy. Il fatto che gli animatronic abbiano voci da bambino è perfettamente adatto alla lore del gioco. Svariati annunci visibili all'interno del primo gioco raccontano infatti di 5 bambini scomparsi nel locale. La polizia presume che un uomo vestito da Freddy li abbia rapiti ed assassinati. Dopo l'assassinio, gli animatronic cominciarono ad espellere sangue e muco dalle loro facce. Addirittura un cliente descrisse l'odore degli animatronic come quello di una carcassa rianimata. Inoltre i corpi dei bambini non furono mai più ritrovati. La cosa lascia intendere che i corpi dei bambini furono inseriti all'interno degli animatronic e che sono quindi collegati ai loro malfunzionamenti. Scott Cawthon, riferendosi agli animatronic, li ha definiti infestati, dando il via libera all'idea che gli animatronic siano posseduti dagli spiriti dei bambini assassinati. Anche uno dei minigiochi di Five Nights at Freddy 2 lascia trapelare ciò. In questo minigioco, il giocatore deve dare dei regali a delle figure che ricordano dei bambini. Dopo avergli consegnato questi regali, il testo del gioco cambia da Give Gift, in italiano dona regali, a Give Life, in italiano dona la vita. Il giocatore deve quindi riavvicinarsi alle figure, che questa volta sostituiranno le loro facce con quelle degli animatronic del primo gioco. Una volta fatto ciò, si attiverà un jumpscare di Golden Freddy, ed in un singolo frame prima di quel jumpscare si può notare un quinto bambino al centro della stanza, da cui fuoriesce Golden Freddy. Golden Freddy ha delle abilità uniche all'interno della serie, come quella di teletrasportarsi dentro l'ufficio. La cosa potrebbe essere collegata all'importanza di Golden Freddy nell'incidente dei bambini. In Five Nights at Freddy 2, infatti, il tizio al telefono afferma che c'era qualcuno che stava utilizzando una tuta dorata, poco prima dell'inizio dei malfunzionamenti agli animatronic. Il che spiegherebbe perché Golden Freddy appare floscio e senza vita. La mancanza di un sostegno sembra suggerire che il costume sia privo di endoscheletro, ed il che lascerebbe intendere che l'endoscheletro che si può vedere in un angolo del backstage appartenga a Golden Freddy. Una teoria che sembrerebbe giustificare le abilità sovrannaturali di Golden Freddy sostiene che egli sia solo un'allucinazione. Una prova che lo dimostra è il fatto che Golden Freddy appare solo se il giocatore dà un'occhiata al suo poster per poi tornare a guardare l'ufficio. La sua AI, inoltre, non è modificabile nelle impostazioni. Tra l'altro Golden Freddy non si riflette nei monitor dell'ufficio, mentre gli altri animatronic sì. Quando poi il giocatore viene ucciso da lui, il gioco semplicemente crasha. È anche possibile che Golden Freddy, almeno originariamente, non avesse alcuna importanza nel gioco. In un'intervista a Geeks Under Grace, a Scott fu chiesta la storia che si celava dietro la creazione di Golden Freddy. Egli dichiarò solo A volte le cose accadono e basta durante la creazione di un gioco. Non posso spiegare Golden Freddy. Bene, anche per questo Didino Gaming è tutto. Ma ne arriveranno presto di nuovi. Come sapete il venerdì alle 15.30. Quindi per non perdere i prossimi video iscrivetevi al canale e visitate il canale originale Didino Gaming. Ragazzi, questo Didino Gaming è un po' strano su questo gioco che personalmente non ho mai cacato dalle lore complicate, a quanto pare, però so che molti lo adorano e quindi ho pensato di doppiarlo. Soprattutto visto che non potevo fare il sondaggio. Visto che vi ricordate le collaborazioni che vi sto preparando. E direi che per oggi questo è tutto. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un like o un dislike o un commentino qua sotto. Al prossimo video, ciao! Grazie.